signori quest'oggi daremo sfogo alla nostra creatività e vi porto cooking simulator cakes and cookies dunque allora ne approfitto perché oggi è anche il mio compleanno quindi signori quest'oggi ci facciamo una bellissima torta che ve ne pare? beh io direi quasi quasi di sì detto questo banda le ciance vediamo un attimino quale torta possiamo organizzarci allora io direi di fare questa qui o magari vediamo 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 crostata di ciliegie crostata di mirtilli del pane semplicissimo del tiramisù ecco torta al cioccolato fondente già si potrebbe fare anche dei piccoli bignè già si potrebbero fare però per il momento ragazzi vediamo un attimino biscotti al cocco ottimi biscotti con codette di zucchero buoni anche loro insomma ragazzi abbiamo una cheesecake europea insomma ragazzi abbiamo veramente una marea di roba e vediamo un attimino forse magari di fare new york cheesecake guarda qua torta alla zucca torta alle carote signori sapete che c'è torta allo sciroppo d'acero si potrebbe anche fare torta di semi di papavero torta madeira torta sacher signori biscotti d'avena medovic red velvet torta della luna e si infatti perché questa qua se ti mangi un boccone arrivi direttamente sulla luna no voglio dire e torta di fragole maronna ragazzi la torta di fragole la adoro e torta lievitata al cioccolato oddio ragazzi ce ne stanno veramente in quantità industriale e sapete che cosa vorrei fare questa torta sacher oppure una torta al cioccolato la ricopriamo completamente di cioccolato beh dai su ragazzi si potrebbe fare anche una bella torta di cioccolato dov'è che era dov'è che era eccola qui per i primi ingredienti abbiamo bisogno di fondere del cioccolato fondente 200 grammi per 60 secondi allora peglia qui e apri qui ora ora cioccolato fondente eccolo qui chiudi qui e mettiamolo qui sul fuoco anzi aspetta no questo ok 60 secondi diciamo che stiamo attenti noi ogni tanto e stiamo attenti noi ogni tanto poi dobbiamo mettere nel mixer farina per torte zucchero granulato cacao sale e lievito in polvere mixando usando il gancio ok dai si potrebbe fare si potrebbe fare allora cioccolato fondente ragazzi come detto stiamo attenti noi e oddio ma siamo sicuri di quello che stiamo facendo allora cioccolato fondente si d'accordo si sta facendo però ok è sparito il cioccolato fondente ma lascia fare lascia fare no scusi eh fammo le cose fatte bene ok allora farina per torte credo che le dovremmo mettere qua dentro farina per torte farina per torte zucchero farina per torte quanto è che ne vuoi 200 grammi allora noi qua abbiamo un misurino da 150 grammi allora lo mettiamo tutto eccolo qui 150 e la gallina canta ora mi versi tutto quanto qua dentro ottimo e me ne prendi altri 50 25 50 perfetto fammo le cose fatte bene signori eh abbiamo bisogno di 250 grammi di zucchero granulato eccolo qui 250 grammi e mi raccomando non fammo le cacate 150 e 50 sono 200 aspetta sono 200 grammi e altri 50 grammi eccolo qui oppela perfetto e siamo arrivati a 250 grammi di zucchero granulato adesso dobbiamo mettere del cacao il cacao noi qui ce l'abbiamo dovrebbe essere dall'altro lato aspettate fatemi vedere una cosa se magari ce l'abbiamo già di qua il cacao aspetta 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 cacao cacao eccolo qui cacao perfetto quant'è che ne abbiamo bisogno di ben 50 grammi di cacao allora 50 grammi ci dovrebbe essere eccolo qua il misurino da ben 50 grammi eccolo qui portiamolo qua dietro ecco qui metti questo 50 grammi di cacao poi abbiamo bisogno di ben 2 grammi di sale 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 amido sale eccolo qui e 2 perfetto poi abbiamo bisogno di lievito in polvere lievito in polvere allora cannella lievito in polvere eccolo qui quant'è che ne vuoi ciccio 5 grammi 1 2 3 4 e 5 perfettissimo ottimo e usando il gancio 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 allora metti qui togli la foglia to 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 togli la foglia e che cos'è togli la foglia mettila qui dammi il gancio metti il gancio metti questa ole ora vabbè non ci fate caso poi latte intero olio di girasole estratto di vaniglia uovo e composto fuso composto fuso credo che sia quello impasto al cioccolato fondente in stampo circolare ok quindi allora dentro qui dobbiamo mettere 200 ml di latte aspettate facciamo così facciamo le cose come i locatelli allora 200 grammi 200 millilitri di latte panna ma latte normale non c'è ah latte intero sì scusate allora 200 ml abbiamo detto giusto versa versa 200 ml di latte piano piano 201 non fa niente scusa giovane io questo te lo piazzo qua lascia fare lascia fare poi olio di girasole olio di girasole quant'è che ne vuoi 50 ml vai 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 così vai così 47 dai 49 basta così basta così tanto la torta è mia estratto di vaniglia estratto di vaniglia andò cavolo ecco lo vado a prendiamo sto estratto di vaniglia estratto di vaniglia oddio aspetta un attimo non è che forse magari sarà di qua zucchero zucchero e zucchero a velo estratto di allora aspettate no qui non c'è niente cancella aspetta un attimo estratto di vaniglia non è che forse magari si troverebbe qui estratto di vaniglia utensili varie ed eventuali estratto di vaniglia andò cavolo è che si trova sto estratto di vaniglia aspetta estratto di vaniglia dovrebbe essere eccolo qui estratto di vaniglia quant'è che ne vuoi 5 ml oddio mamma che stiamo a combinare 4 tacco punta olè vabbè 2 grammi in più non fa niente e 100 grammi di uova 100 grammi di uovo un uovo solo io ma che dite la buccia ce la devo togliere teoricamente sì però lascia fare lascia fare aspetta dobbiamo mettere il composto fuso eccolo qui scusi aspetti un attimo oppela perfetto butta tutto usando la foglia togli questa togli questa buttalo lì la no la foglia abbiamo detto la foglia ecco qui ecco qua zacchete ma che ve lo dica fa guarda qua vabbè sta roba qua allora stampo circolare eccolo qui allora la facciamo da no aspetta piglia il panettone qua uno due e tre e quattro no vabbè mi sa che abbiamo fatto più di qualche qualcuno allora quattro minuti e cinquanta allora il tempo quattro minuti e cinquanta eccolo qui per centosettanta gradi centosettanta gradi eccolo qui piglia questa butta dentro e tacco punta ok allora visto e considerato che di sicuro questo qui sarà veramente tanto tanto poco vediamo un attimino di prendere un altro stampo circolare allora utensili stampo circolare ci sta stampo 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 per torte eccoli qua allora stampo circolare non ci sta lo stampo circolare ah no eccolo stampo circolare medio stampo circolare stampo piccolo stampo circolare stampo questo qui ok a questo dovrebbe arrivare in men che non si dica e vediamo un attimino qui quanta roba ci abbiamo perché sennò altrimenti ragazzi la rifaccio un'altra volta visto e considerato che abbiamo ordinato un altro stampo prendiamo questo e la buttiamo tutta però per il momento è poca io direi di farne un altro di stampo allora questo chiudi chiudi tutto o le accendi no aspetta è vero è vero è vero chiudi qua aspetta un attimo piglia qui metti qua piglia qua metti qua dove sta quello eccolo lì eccolo lì perfettissimo facciamo fondere di nuovo il tutto farina per torte 200 grammi farina per torte 200 grammi vediamo un po' quello che sappiamo fare 150 175 225 non fa niente zucchero granulato 250 grammi anche qui 225 275 non fa niente aspetta va bene va bene va bene va bene va benissimo anche così va benissimo anche così o le quasi sta quasi per completare il tutto lì è quasi fatta credo non lo so ci facciamo questa big torta al cioccolato la miscela ma credo che si starà riscaldando anche tutta quanta la miscela credo di sì dai e così dai e così o le togli tutto spegni tutto metti qua stavamo facendo questa qui allora il cacato è il cacao il cacao allora aspetta cacao eccolo qui quant'è che ne vuoi 50 grammi facciamo prima con questi qua 50 grammi di cacao eccolo qui potta dentro sale e lievito allora sale 2 grammi 1 e 2 e questo qui quant'è che ne vuoi 2 5 2 3 4 e 5 perfetto e usando il gancio allora aspetta facciamo così metti qua togli questa pigliamo il gancio mettilo qui metti qua e dai taglie poi dobbiamo mettere qua dentro latte intero latte intero aspetta perché era qui latte intero 200 ml taglie così taglie 180 186 215 non fa niente butta via il latte olio di girasoli altri 50 ml questa qui però non la facciamo volare signori perché questa qua si rompe 50 ml e estratto di vaniglia 5 invece olè so 7 non fa niente e un uovo eccolo qui ops scusate scusate tacchete tacchete e usando la foglia ecco qui ops ho dimenticato l'impasto vabbè che lo possiamo aggiungere anche adesso tacco punta olè ma ma che torta avesto a fa ma che torta avesto a fa guarda qua questa qua è già pronta e piglia qua metti qua tacco punta olè ok perfetto allora la prima è pronta e a 4 minuti e 50 secondi sempre la stessa identica cosa a 4 minuti e 50 secondi ecco qui piglia qua butta dentro sì forse magari sarà un attimino differente da questa però lascia fare lascia fare oh e che cos'è allora adesso qui la mettiamo sulla alzatina tacchete tacchete allora questi qua la crema di cocco no perché non mi piace vi si è considerata che comunque sia è una torta al cioccolato la facciamo tutta quanta torta al cioccolato perché no e quindi quindi torta al cioccolato possiamo fare direttamente che vediamo un attimino questi qua vediamo 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 prodotti colorante questi qua dov'è che stanno però aspetta questi qua al cioccolato ce li abbiamo allora vediamo un po' al cioccolato eccolo qui perfetto e mettilo qui tacchete tacchete ole siringami tutto qui tacco punta ole ops no poi 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 vediamo un po' visto e considerato che comunque sia stiamo parlando di una torta al cioccolato vediamo un po' se ci sta eccolo qua glassa al cioccolato ok scusi buon uomo io avevo messo la glassa al cioccolato questa è glassa al cioccolato ma non mi sembra non mi pare questa qui glassa al cioccolato ma non mi sembra glassa al cioccolato ma siamo sicuri ma mi sembra un po' troppo rossa to beccati sta mamma mia sta spennellata sopra dai e così e to beccati scusi sto baiocco ole e qui a che punto siamo scusi giovane dica eh 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 ci abbiamo ancora un pochettino di pazienza sapete che cosa io direi di o fare un altro piccolo strato perché comunque sia è giusto così è giusto così e piglia qua lo strato finale ecco diciamo lo strato finale allora abbiamo detto 170 gradi 170 gradi per 4 minuti e 50 secondi ecco qui butta dentro vai e così 170 e ragazzi ci manca ancora un altro pochino di tempo nel frattempo nel frattempo sapete che cosa noi ci possiamo divertire anche comunque sia voglio dire no vediamo vediamo questa qua che roba è dummi 20 51 52 53 varie petardo no così giusto per scherzare acquista qua va e poi questo è considerato che possiamo prendere anche una bombola così tanto per scherzare pure con questa il pacchetto è arrivato vota qua vota qui ma come una bombola me la portano in uno scatolo e poi va bene va bene le stelle accendi tutto pitch tutto cosa ok oh oh questa qua si è accesa aiuto ma mi ci posso avvicinare ma non esplode aiuto che cavolo combinato aspetta eh addio è esplosa così come se non ci fosse un domani ma festeggiamo il mio compleanno yey che bello allo spegni che qua la corrente consu eh qua il gas si paga giovani e che cos'è allora vediamo un po' no ma ma mi sembrava che fossero dei petardi un pochettino più migliori ma intanto non lo sono ok ecco qui l'altra allora facciamo la stessa identica cosa ecco qui si perché quando la metto sopra purtroppo non lo posso fare zangete ah ops la mia torta piglia la torta metti qua e dai ad un'altra baioccata di glassa di cioccolato tacete eh guarda qua che sfizio che mi sto a togliere quest'oggi dai ad un altro baiocco piglia questo e piglia questo qui buttalo qui questo qui ancora deve fare ah il mio esperimento è quello di buttare dentro no ok baronne santa che cavolo di fine ha fatto starò ma è arrivata qui oh madonna santa abbiamo fatto i peggio danni scusi eh ole stia là sotto lei eh mi raccomando allora vediamo un attimino riguardante ragazzi le guarnizioni eccetera allora come strato finale come strato finale diciamo che la possiamo far sempre fatta cioccolato che poi magari la possiamo fare anche fatta di panna vediamo un po' io signori sono intendo a farci un altro un altro strato però questa volta sapete che cos'è che voglio mettere allora questo qui beccuccio girasole allora cambiami il beccuccio mi metti questo qua sapete che cos'è che volevo fare volevo fare come una sorta di spennellata sopra ovvero altera il disegno allora con questo qui che cacchio sta succedendo alla mia torta ho già qua sta torta scusi e che cos'è allora cancella indietro altera il disegno no cancella allora aspettate ah non esce niente e dai però no 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 togli sta roba togli sta roba ma aspetta ma perché cavolo non funziona scusa no 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 togli sta roba togli sta no la mia torta la mia povera torta la mia povera torta piglia qua l'ho fatta bruciare ma si è bruciata oh madonna si è bruciata la mia torta no che è sto schifo che è sto schifo no 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 via 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 più che altro ragazzi lo rifaccio l'impasto dammi qua dammi la pentola si ragazzi dai su lo rifacciamo l'impasto perché dai veramente che cos'è allora abbiamo detto cioccolato fondente tac scusi vada vada dentro che cos'è non opponga resistenza vai a questo più grande così si fa prima farina per torte dai eh 200 grammi di farina per torte che cos'è aspetta eh scusi ma che cavolo ma perché mi hai buttato signori eh che voi devo dire allora aspetta va piglia qua forse magari uno stampo lo dobbiamo comprare non lo so allora 100 grammi 200 grammi per farina per torte e vabbè però qua 50 alla volta qua ma stai ma stai fuori leva qua lascia fare lascia fare tutto calcolato allora con la miscela si sta miscelando come giusto che sia zucchero granulato si vabbè sempre lo stesso è sempre lo stesso forse come detto lo dobbiamo acquistare un altro stampo circolare perché questo qua purtroppo non so che cavolo gli è preso e 170 gradi ma possibile che 170 gradi si era 170 gradi ma vabbè allora qua abbiamo messo ben 50 quindi altri 150 e la gallina canta ecco qui e arriviamo a 200 perfetto perfetto qui invece sono 250 di no che cavolo ho fatto ma vaffan club zucchero granulato 250 grammi di zucchero granulato ole 150 50 sono 200 3 quanti cappero vabbè fai così va e abbiamo detto che sono 150 la gallina canta e 50 sono 200 otta qua altri 50 e stiamo a posto 200 250 anzi 50 di cacao scusate e dai e così sale e lievito in polvere scusi sale e lievito in polvere 1 e 2 e poi 5 1 2 3 4 e 5 perfetto butta qui usando il gancio il gancio eccolo qui tacco punta dai e così e poi poi sempre qua dentro latte intero scusi che fine ha fatto il latte eccolo qui sì dai ci sta ancora ci sta ancora allora abbiamo detto che è a ridagliela servono c'è 200 ml di latte 194 195 196 197 98 99 e 204 che poi ecco qua ecco cos'è olio di girasole 50 55 non fa niente estratto di vaniglia altri 5 ml olè poi un uovo ops l'altra volta è caduto l'uovo scusi ma stiamo spendendo più di uova che non di tutto e che cos'è metti il composto qua dentro giovane aspetta prima che me lo butti fuori butta via la padella usando la foglia foglia ecco qua ora ora non vorrei dire ma secondo me è meglio che lo acquistiamo un altro stampo per torte stampo per torte circolare allora abbiamo usato quello lì piccolo stampo ovale ovale no a me sempre lo stampo tubolare no allora stampo circolare circolare facciamo questa volta uno medio ah cavolo questo qua non si può prendere e vabbè allora acquistami questo pacchetti devo di e niente ragazzi non possiamo proprio farlo non so perché non so perché non possiamo prendere quello lì quello più medio allora ecco qui ecco qua appoggia qui dammi l'impasto butta qui come detto 4 minuti e 50 secondi 4 minuti e 50 secondi ecco qui dai e l'ultimo impasto certamente lo possiamo fare direttamente azzo e che cos'è ole e qui altri anzi no aspettate ora sono meno quindi 3 minuti e 10 3 minuti e 10 ole perfettissimo ok butta qui scusa ma queste cose qua non so più un inghippo voglio dire no butta tutto a terra così almeno lavori meglio no e che cos'è questo qua dovrebbe essere per le torte ops ok perfetto allora vediamo un po' colorante alimentare rosso ragazzi io ci volevo fare una cavolo di spennellata sopra però qua secondo me le spennellate non escono allora vediamo un po' 3 4 e 5 ok ops butta tutto ole e si dai diciamo che no 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 che è sta porcheria qua aspetta ma allora e che cos'è guarda qua va bene dai su c'è soltanto bisogno di capire com'è che possiamo fare perché sono onesto anzi aspettate ora che ci penso con quest'altro strato magari gli possiamo fare una cosa tipo panna e quant'altro vediamo un po' copertura personalizzata dai vediamo un po' copertura personalizzata ah cavolo ops un'altra volta che cavolo e si dunque aspettiamo un attimino ragazzi che esca questa ultima strato di torta anzi questi altri due stati strati di torta due minuti qua manca ancora veramente pochissimo daie daie che c'ho fretta daie che c'ho fretta che cos'è mamma mia la nostra cucina è veramente uno schifo totale no veramente non sto scherzando e si dai questa qui ragazzi è ancora la prima volta che facciamo le torte no voi che dite quindi voglio dire no è il mio compleanno quindi mi diverto anche come voglio io e daie 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 de tacco daie de punta e daie con la sua rassunta daie 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 che non vedo l'ora di mettere quest'altro piccolo anzi no aspettate questo qui è lo strato piccolo possiamo dobbiamo mettere per forza prima di cose lo strato grande perché è così quindi va benissimo anche così daie 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 ah scusi scusa perché no ah ok no mi si è inceppato ah ok allora questo qui sempre fatto con glass al cioccolato annaccia la miseria mi si era rotto mi si era rotto la crema al cioccolato eccola qui tacchete allora piglia qua crema al cioccolato dai oh le cosa qua muotra un po' esplode sta roba botta qua piglia la glassa personalizzata qua splaffete vedi altra glassetta qua e splaffete e questa qui la lasciamo per dopo perché come detto è lo strato finale quindi lasciate fare lasciate fare sì almeno facciamo diviso due insomma no quindi anzi almeno uno strato lo facciamo diverso dall'altro quindi diciamo soltanto panna ecco qui tacchete o le allora allora piglia sta cosa qua poggia qua eh la madonna che cos'è scusi eh vengi qui metti qua no aspetta eh che cos'è che cos'è eh siringa dai eh oh cavolo sta cavolo di cosa qua perfettissimo zangete o le allora metti sta torta qua eh allora ora qui possiamo scegliere tra una glassa personalizzata o glassa al al cioccolato io direi di farla suddivisa in due ok allora facciamola suddivisa in due quindi piglia la spatolina qua beccate sta spennellata sopra e il contorno lo facciamo con il cioccolato to beccate sto baiocco olè lascia sta la torta e dai di tacco e dai di ma che sta no dai no non ci credo no non ci credo no non ci credo mai nella vita che ha combinato ma è combinato vicino a quella torta ma mi ha rovinato la torta ma scusi buon uomo ma che cavolo le dice il cervello ma 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 mi scusi ma ho fatto una cosa caruccia ah ok dai perfetto com'è andata ma è andata veramente una porcheria sapete che c'è questa qua patonna santa che cos'è e che vi devo dire ma butta sta roba qua sapete che cosa che lo strato con la glassa personalizzata non mi piace quindi e dagli perché mo non me lo fai togliere questo vabbè signori non fa niente non fa niente andiamo di piccola decorazione a ridagliala con sta cazza di torta che che cacchio no aspetta signori qua c'è da perdere veramente una matriosca di tempo giotto a mano libera giotto a mano libera no non mi piace non mi piace come sta uscendo allora aspettate butta qua a stella a stella pure se potrebbe fa eh fatemi vedere mmm non mi piace non mi piace altera disegno no non mi piace come cavolo ma perché sapete che cosa perché sono io che non sto fermo con la mano no 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 che è sta porcheria qua eh cancella indietro alterna il disegno e signori dobbiamo andare così piano 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 lo dobbiamo fare dai quest'oggi vi faccio una torta che è uno splendore guarda qua e voilà signori che ve ne pare a pè a parte il fatto che non è ancora finita signori non è ancora finita la gira sole tondo vediamo un po' cambia a ridaglia la costa torta ole allora vediamo un po' vediamo un po' devo cercare di coprirla tutta quanta con sta glassetta personalizzata non mi piace non mi piace perché sembra quasi una mezza vabbè signor sta usci veramente una schifezza qua lascia stare va lascia butta via sta roba qua vediamo un po' vediamo un po' e gli possiamo mettere anche qualche piccola decorazione oh piano la torta metti qua la torta va e apri oh la la abbiamo anche delle mitiche faccine guarda qui che roba allora una faccina me la metti qui un'altra faccina me la metti qua si diciamo che sono quasi si dai potrebbe andare potrebbe andare e un'altra faccina invece me la metti qui così eh ma che torte che vi faccio questa qui ragazzi è la mia torta personalizzata e voglio dire personalizzata e poi poi vediamo un po' delle bestioline sposi sposa e così via dei cigni e delle lettere e più e ragazzi non abbiamo più niente ma io posso pure fare che no butta qua e signori signori vi siete considerato che la mia torta di compleanno è completata io direi quasi quasi di completare qui questo nuovo video di cooking simulator cakes and cookies spero ragazzi che vi sia ma che cavolo fai ma non mi dar fastidio sto cioè noi siamo arrivati cinquantunesimi ma pensate ma levati da qua continui vai via per favore che la torta non la devo vendere la devo mangiare per me ma mi fai continuare la torta dovevo fare lo scri oh ecco ma ok perfetto la torta sta qui come detto ragazzi concludo qui questo video di cooking simulator cakes and cookies spero ragazzi che vi sia piaciuto e se così vi invito a lasciare un like a commentare ed iscrivervi e attivare la campanellina se qualcuno di voi vuol farmi gli auguri di buon compleanno lo può fare qui sotto qui nei commenti e io risponderò con un commento un like al commento e anche un cuoricino detto questo vi saluto e noi ci si becca in un prossimo video un saluto a tutti da G90 Gamer ciao a tutti